con i giovani salve gente bentornati sul mio canale come si può forse intuire dal titolo del video beh porto subito col dire che questo non è Oda e Ichiro questo non è il papà del famosissimo manga one piece come mai sto dicendo ciò beh perché ultimamente ultimamente mi è capitato di vedere condivise le immagini di quest'uomo affiancato da rufi e la social ma più la giga scritta sotto di Oda e Ichiro foto condivise non solo dalla gente ma anche da qualche sito più del settore ecco questo è accaduto un bel po' di volte per questo mi è incuriosito la cosa mi sono domandato come mai questa associazione se questo non è Oda e Ichiro ah ecco stavo per dimenticarmi questo è il vero volto di Oda questo e non questo vedete bene i due tizi non si somigliano per niente hanno anche una decina di anni di differenza di diverso ma allora costui con la barbetta e gli occhiali chi è? beh forse qualcuno di voi l'ha riconosciuto per chi non l'ha riconosciuto beh anche egli è un personaggio giapponese famoso entra sempre nei geni ma in un altro campo quello dei videogiochi beh se vi dico il nome Zelda non d'en sesso vi dice qualcosa? vi dice niente? no? niente? forse il titolo occidentale magari vi risulta più familiare vi dico The Legend of Zelda ecco ora penso risulti più familiari chi non conosce questa famosissima saga adventure della nintendo bene costui è Aonuma Eiji il produttore di alcuni episodi di The Legend of Zelda episodi come Breath of the Wild, Fire at the Princess, Wind Waker, Majora's Mask e altri per te i due sono totalmente diversi lavorano in diversi settori e tra diversa aspetto completamente diverso differente non hanno niente in comune vedete e si non hanno niente in comune se non la nazionalità perciò ricapitolando Oda Aonuma 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 Oda Odo Aonuma comunque incuriosito da questa strana associazione sono andato da zio google per fare alcune ricerche e già lì ho ricevuto le prime risposte in pratica scrivendo Oda Aichi su google nella sezione immagini tra i primi risultati compare proprio la foto di Aonuma qualche sito ben posto nel motore di ricerca deve aver usato la foto sbagliata per il proprio articolo e a questo poi si sono ospirati altri siti che hanno fatto altro che aumentare la probabilità di vedere lì in cima quella foto la foto di Aonuma compare anche se si chiama Oda Aichi Oda invece di Aichi Oda ora il tizio di turno che scrive Oda su google magari si ferma la piazza di circa ma vuole sapere com'è fatto il volto dell'atore del One Piece e si trova quello sbagliato quello di Aonuma e a sua volta crea immagini dove da una parte c'è un artista e dall'altra c'è l'opera che si diffonde una macchia d'oro immagini come queste alimentando ancora di più l'associazione tra i due personaggi non potete immaginare quante foto ci sono veramente tantissime ho visto tantissime con spesso la gente che magari commentava senza notare la cosa ma in pochi ci facevano caso beh ci sta pure che magari uno apprezza un'opera ma non conosce il volto dell'autore ecco magari uno sul momento non ci fa caso oppure invece l'ho notato subito perché Zelda è una delle mie sagge videodudiche preferite e apprezzo tantissimo l'operato di Aonuma per questo ho deciso di fare questo video per chiarire un po' con l'argomento volto di Oda associato a quello di Aonuma e spero di esserci riuscito anche se non ho capito proprio qual è l'origine principale di questo esore beh quindi se vi capirei di vedere in futuro foto dove vedete questo tizio con la barbetta e gli occhiali vicino a One Piece beh sapete che le cose sono sbagliate ecco non è così e con questo penso di aver detto tutto quello che volevo dire non penso ci sia altro per questo vi saluto ma prima vi ricordo di dare uno sguardo alla vignetta qui sopra per supportare il canale mi raccomando il vostro contributo è importantissimo non smetterò mai di dirlo ora vi saluto e ci vediamo alla prossima sempre qui sul mio canale non mancate mi raccomando alla prossima ciao 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 ciao